I sindaci della Tuscia si riuniscono per dire no all'ipotesi ventilata di una nuova discarica nella zona. Ancora una volta, fermi in una nota al presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, ci troviamo nelle condizioni di dover fare battaglia per cercare di bloccare l'ennesima discarica che un soggetto privato intende realizzare nella Tuscia, in questo caso presso la località Piano del Casalone, nel comune di Viterbo. Presso la Regione Lazio è stata depositata da parte di un soggetto privato un'istanza d'attivazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, un passaggio fondamentale che, se superato, aprirebbe le porte alla realizzazione dell'impianto, sottolinea Romoli. Come provincia di Viterbo sono state presentate alcune osservazioni indicando come l'aria in oggetto abbia una forte vocazione agricola e sottolineando qualora ce ne fosse bisogno che la Tuscia ospita già diversi siti per lo smaltimento dei rifiuti. Romoli ha convocato in provincia per venerdì 20 settembre i sindaci dei comuni di Viterbo, Vetralla e Monte Romano sarebbero i più interessati nell'eventualità in cui il sito venisse realizzato. Obiettivo dell'incontro? Quello di stabilire una linea politica amministrativa comune per cercare di bloccare questo progetto. Romoli lo ribadisce, è ora che si smetta di considerare la Tuscia, discarica di Roma ed Italia.